Una scoperta in attesa ha ravvivato i lavori di restauro del monastero dei Santi Severino e Sossio nel centro antico della città. Il progetto della soprintendenza ha previsto la riapertura della porta, sigillata per due secoli, del passaggio tra la chiesa e il chiostro del Platano. Lungo l'antica scala, occultata dietro a un muro di tamponamento, è apparsa una nicchia affrescata ad epoca rinascimentale, dove forse i monaci si raccoglievano per pregare. Dal 1835 l'area del convento accoglie l'archivio di Stato. Nella rimozione di un tramezzo, di una compagnatura probabilmente ottocentesca, è stato rinvenuto questo vano affrescato con delle scene sacre, naturalmente una deposizione, una presenza di vescovi e di altri personaggi, con uno sfondo paesaggistico che ricorda la città di Napoli, ma su questo dovremmo fare degli approfondimenti, di epoca rinascimentale, quindi precedente alle grandi ristrutturazioni seicentesche del complesso. Questo indica ancora una volta come questi nostri monumenti pluristratificati ci diano sempre informazioni e sorprese quando riusciamo a restaurarli e a valorizzarli. I lavori sul complesso monastico benedettino, che per secoli accolse le reliquie dei due santi, fanno parte del grande progetto centro storico di Napoli per la valorizzazione del sito UNESCO. Noi apriremo questo complesso museale da quest'altro accesso, quello di Vico, Monte di Pietà, su San Biagio dei Librai, in modo tale che tutti quanti possano usufruire di questi spazi meravigliosi, fatti da chiostri affrescati ma soprattutto da verde, un verde insolito all'interno del nucleo urbano, del centro storico della città di Napoli. Una scoperta straordinaria in questo restauro che fa parte del restauro UNESCO, sostenuto dal Comune, che riguarda la chiesa di San Severino e Sossio, che ci mostra uno spaccato della Napoli-Aragonese con una scoperta molto bella che sarà anche oggetto non solo di ricerche ulteriori, ma una nuova gemma per i tanti turisti che frequentano la nostra città.